Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft sul server iPixel Avevo già registrato questo video, lo metto ora, aggiungiamo i 200 iscritti 5 mi piace come al solito per il prossimo video che sarà il vanilla 1.12, nuova avventura Spero vi sia piaciuto il video di Cortana, ho registrato una sola partita perché è stata epica e lunghissima L'ho fatta con un amico e spero che sarà bellissima, l'abbiamo vinta ovviamente Vi lascio il video, iscrivetevi, 5 mi piace Eccolo il nostro eroe che torna con gli smeraldi Ok fermo faccio la intro? Sì Vieni qua Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Oggi ci troviamo qui con Crazy Monster sulle Bed Wars di iPixel Allora stiamo finendo a rimettere il secondo strato di Ossidiana a letto in modo che Possiamo killare qualsiasi cosa Anche il ghast è mutante Mi avanzano due pezzi di Ossidiana addirittura Che ci faccio? Poi mettiti uno qua Qui Qua dai Ok perfetto Io faccio il ponte verso Va bene? Eh cosa? Ho fatto l'arco L'arco? L'armor Ah ok Fatti pure una spada Tieni tieni prendi l'oro Vieni Eh fatti la spada in ferro e altre cose Vieni con me verso i gialli Sì ecco faccio la spada e prendo Fai anche qualche altro blocco così Ma è gialli? Quanti sai? È uno solo i gialli tra l'altro Eh No così No niente Allora vieni Tra l'altro è morto questo Sì Come l'amazzino No aspetta ammazzo io? Ah Io sto Ciao Ciao Infatti il piccone almeno rompiamo il letto Ma che è l'assurdo Prima di romper il letto dimmelo Non lo rompe subito Anzi Aspetta Prima invece devo divertirlo Mi aumento la kill streak Eh io lo danno ancora Oh eccolo Eh tornate dal mondo dei morti No l'hai ammazzato Ho chiuso Hai chiuso Poverino Aspetta Sto scappando Sto scappando Sto scappando Sto scappando Dov'è? Dov'è? È morto Non lo vedo Ultimo Ok niente Eh Lo so Mi è stato ammazzato Hai preso il materiale? Ma che In traceste c'era qualcosa? No Non ho visto Sbrigati ne ho quattro smeraldi Ho quattro smeraldi Tornaglia 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 È caduto Sai che a certe volte per ritornare mi perdo Dove sta? No è tornato in base Sì Ho sopra la cottega Sì Dove stai? Eccolo lì Dove sei? Eccoli Non lo so I gialli sono morti Ma non è una bardatura di cacca Guarda Blu Vabbè mi vedi a me dove sto? Sì Ok so Hanno risparmato gli smeraldi Guarda che bardatura che hanno Vabbè ma i rosa cosa Guarda i rosa Guarda i rosa che hanno fatto Dammi tutti i smeraldi Ce l'ho Guarda i rosa che hanno fatto Vai a vedere la bardatura dei rosa Mi la rompi quella Con tante fireball Sta tornando in base Toccherebbe potenziare la protezione Che plot ci abbiamo? Due C'è dove i smeraldi in base? Nostra? Eh Non lo so Sto facendo un giro collettivo delle vite La sono morta Porta al minuto gli smeraldi che mi faccio Eh sto io Sto vicino ai rosa che ho portato la rosa Ok No non ci è Non posso quindi Infatti te ne servono i rosa Gli smeraldi Aspetta l'ender Aspetta eh Me ne servono 5 Sì In quel centro ce ne stanno 2 però Non ho dei smeraldi Deve persone Vedi se riesci a tornare Porca miseria Torna in base Se hai degli smeraldi Comunque ho sbagliato Me ne mancano 6 Eh tanto Non so Prendi il diretto Oh questo c'ha la spada di diamante Cioè Perfetto Allora Non so se farmi L'ender pearl Oppure l'arco No no L'arco Ok Senti Dall'isoletta nostra Ora vicino ai cosi E quanti abbiamo Eh Boh non ci ho guardato Ora sta a fare un pochino di cose Ora ci vado Io ce ne ho 4 E no Questo 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 Poi Questo Qualcoliamo che sono morto Sans No Chi ti ha ammazzato Eh No Sto nell'isola dei diamanti dei rosa Non c'è modo di tornare indietro Perché C'hanno solo Tipo una cosa per buttarsi E poi Ti fa tutto il giro Ma c'è stato uno che sta a sparavolare Però c'ho tipo 4 diamanti Adesso E metti Nella prima Anderci a ste elettroni Ma che becca Non ci siamo Anderci a Però posso fare un miracolo Allora Io ora sono pronto Per attaccare Io no Dove ho un miracolo Sans Qual è? Eh? Qual è? Qual è? Sto bloccato in un'isola Quali? Guardi Vicino ai rosa Vicino ai rosa Dei diamanti Che non c'ho blocchi per tornare Arriva il liberatore Eh Questa è una gran 2 No Sono morto Fatti con l'oro Anche un piccone E un'ascia Quelli in diamanti Tieni Tieni Come faccio un totem Con le Con le squadre Che abbiamo sconfitto Grigio E l'acqua Guarda Il piccone Costa Io c'ho 11 oro Il piccone Costa 12 E lascia 12 Fatte bocchi Ma c'è altro oro Non c'è Sì No No Siamo a 13 Adesso mi faccio un piccone Lascia Bocchi Sceglite Secondo me Il piccone Dare del blu Ma ho visto Guarda Guarda Mi sta a tirare Le frecce Sto tizio Vieni del blu Lo vedi il blu Ecco Arrivo Arrivo Vuoi capii Che io ti prendo subito Dai L'ho preso due volte E l'ho nascosto Perché A ogni isola C'ha un buco C'ha un buco Al centro Prima vuole buttare Lì dentro Ma non ha capito Che Lo chillo Prima io Preso No Preso 12 Niente E si è nascondo Quasi sfiorato Così Dovrei prenderlo 9 Non esce più fuori Ma dove stai A frecciare il blu Ho chiudato la salsa Ma dai Mi ha fatto prendere il colpo L'ho preso Hai visto che c'hai Guarda Sì l'ho preso Hai visto quando tiri la freccia Sì l'ho preso Hai visto quando tiri la freccia Che fa Sì tipo No Fa le gocce d'acqua Ma io i terci del blu Sì vabbè Vuole fare un giretto No no Vieni Arriva io Aiuto 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 Come sei? Guarda a me Da dove ero prima Dove ero prima Aiutami Alla che Laura Ti prego ti metto No no Anche il blu 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 Che cazzo c'è che ha messo sti dnt Perché non sei venuto Che cavolo Che cazzo c'è il blu Uff Tanque se stavo dietro Quando tu hai messo la dnt Mi hai fatto L'ha messo al blu La dnt Comunque vabbè Ho eliminato il blu Comunque ci siamo messi malissimo Perché? Perché tra quattro minuti Si distruggono tutti i letti E io avevo tutto Ora mi devo rifare tutto Arco Con i smeraldi Tutto Certo Hai anche l'oro Certo 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 Uh grazie Sono un bimbo felice Ok fai il giro Tutti i smeraldi E tornare in base Dobbiamo armare bene Trattalo bene Quell'acqua Si Oh stai con grigio Adesso si fai l'acqua Da dove? Dalla sua parte Da me? Da me Ah ok Ok fai Prendi soprattutto i diamanti I diamanti Difficile Va bene Allora 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 lo metto intanto Nella ender chest Poi lo rendo là Si si Che a me serve l'oro Devo fare tante trecce Ok Eh pure io me devo fare l'arco Ah a parte quei gli smeraldi Lo possiamo fare no? L'arco si Te lo ho fatto io Guarda quello là Che ho trovato prima Tanto ho fatto gli smeraldi Vabbè fanne che ne so Uno Quali altri tieni Facci le squadre Oh ci posso fare un ender pelle No ma sei nudi Fra due minuti Vi distruggono i metti Eh perché Se tipo ti arrivano in due Ti rilava L'ender pellei più tempo Però costa una cipa Quattro smeraldi Eh Si dai Guarda se qualcuno Mi mira con l'arco Sono arrivato? Tranquillo No eh No ancora Vai 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 Ok i rosa sono uno solo Quanti ce n'hai? 9 9 diamanti Dai 9 diamanti 10 Io dicio Ce ne abbiamo 29 19 19 Ok La c'è rosa Rosa c'è Sicuro Sì C'è ancora un rosa Non so se sta lì Vieni Ok no non c'è Stanno Ci stanno puntando con l'arco Eh Stanno puntando con l'arco Con l'arco di grece A noi Eh A noi si Ok fatto Prate 4 Faccio 4 frecce Io ho tante frecce Quante? 2 stack e mezzo 2 stack e mezzo? Sì Io c'ho 2 Le frecce 2 frecce hai? Sì Ce l'hai l'oro? No Tieni Basta 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 Perfetti grazie Ok allora Eh L'hai fatto Prate 4 Ecco lo sai che ti fa Quanto ti è rimasto I diamanti? 3 Tocca fa Dragon buff Ok Ok Prendi altri diamanti Intanto li guardo Ma io c'ho paura Che mi buttano giù con l'arco Alla C'è sta Un Non so Un grigio A casa dei rosa C'è sta A casa dei rosa? Sì Nell'isola dei rosa Ah è vero Allora aspetta Calma Tieni Sax C'è sta Cosa? Che mi devi dare Ce n'ho già 6 Alla ritardo Quante ne hai? Oh Occhio Quante ne hai? Eh Due Tieni No Te ne ho dai troppe Prendile Prendile Diato di te Sì Sto sparando un attimo Dov'è? Sta lì? Sì Ma non c'è più Oh No Che culo che c'ha Ne faccio altre Prendi ste mele Ecco Te la butta addosso? Ti butta addosso le mele? Sì Quante vi dà? 13.2 Però non lo so È strano l'arco Tu avevi un aggiornamento No Sto a prendere Mattio Tra un po' Lui vive nel vuoto Guarda Non si fa l'avanzare Ma si fa l'avanzare Guarda Eh deb Buttamelo tutto Ok Ho messo tutto vicino a Lander's chest Sì E continua a sperarlo Ok Sai quante fa il ballone? 7 Sì ma non mi piace l'arco Su sta nuova Muore Un po' Ti alza troppo Che mira Prima era diverso Vero? Boh Prima era fortissimo Sta a far ponte di qua Preso L'ho preso A 13 di vita No no Sanx Non ti ha rischiato Se tira una fireball Avvertimi subito Ok Sta scendendo verso di te Sta venendo Ma che fa il bar Ma che ho fatto Sanx? Eh volevi Hai visto che ho fatto? Me l'hai scanzata te? Sì Con la freccia che è così Porco due Come l'ho levata È una cosa epica No Porco tu Ma te lo sai che ha fatto? No tu non puoi capirlo Dove vede Dalla parte C'è la cosa mia Guarda così Guardami Sanx Guardami Stavi là Ha fatto così Ma lo sai che ha fatto Praticamente Praticamente Io gli ho tirato Due fireball Lui l'ha scansata Una è andata Addosso all'altra E ha fatto Un'esplosione enorme Oh ce l'ha con me Preso Oh non lo so più Prende Preso 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 Un'altra volta Già 13 di vita Oh Cavolo Cavolo Attento Attento Allora Più due Più due Dammi un ender Dammi un ender Tieni 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 L'ho buttata L'ho buttata Pronto Pronto Via Mangiamila Mangiamila Lui eh Allangha Allangha L'uccido L'uccido Stai a mettere L'ho buttato L'ho scappato Stai a mettere Lui Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì 145 coins ho total wins adesso una volta spawnato vai dritto davanti vai dritto davanti dai facciamo alla fine vai dritto davanti sbrigati dritto davanti vabbè mo la facciamo quando entriamo calina sta mappa è nuova vieni qua vieni qua dietro a me ok ragazzi il video finisce spero vi sia piaciuto come al solito 5 like per il prossimo video iscrivetevi e arriviamo a questi fratellici 200 iscritti ciao al prossimo video ciao 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 ciao